Cura 15.04 è il tema di questi corsi che farò. Saranno molto più lunghi dei soliti corsi, cioè entrerò più nello specifico. La scorsa volta abbiamo fatto una valutazione, abbiamo visto cos'è l'altezza del livello, lo sapevate già, ma ci sono delle informazioni che sono un po' più profonde e più importanti, cioè in base a cosa usare il vario spessore. In base a cosa usare anche lo spessore delle pareti, oggi lo vediamo, e è questo che vedremo, e le pareti con questa versione qua, ma come anche nelle altre, sono evidenziate di un colore differente. Esternamente una parete è rossa, che la parte rossa è 0.4, e internamente la parete interna è verde, è un altro 0.4, quindi la mia parete è composta da 8 decimi. Puoi variare la parete a seconda della resistenza dell'oggetto che vuoi ottenere. Nel 0.4 avremo una resistenza inferiore, ma una resa estetica molto simile. Vedremo un po' di più le linee interne del supporto, proprio perché le linee che lo distanziano sono una e non due. È utile usare lo 0.4 se sono dei campioni, dei testi dimensionali, cose che non devono durare, non devono essere sottoposte a stress e a pressioni. Altra parete, quindi vediamo 0.8, l'abbiamo vista, 1.2, che è 0.4 per 3. Tre pareti. La parete interna è verde e quella interna ancora è comunque evidenzata di verde. Io posso impostare tutti i multipli di 0.4. Se per assurdo lavorassimo con ugelli da 0.7, i multipli sarebbero 7, 14 e via via, cioè 0.7, 1.4, 2.1 e via via. Ovviamente più lo spessore della parete è alto e più resistente sarà l'oggetto e meno vedremo le linee interne. Se per esempio sto facendo una valutazione e sto guardando se il cubo esce precisamente la misura che voglio, potete mettere solo 0.4. Se state facendo un oggetto che deve finire in mano a qualcuno, deve essere utilizzato e deve durare, mettete 0.8 minimo. Io a 0.4 lavoro solamente se i pezzi non vanno in mano ai clienti, perché vedete che il perimetro è molto sottile, basta una leggera pressione che si sfonda. Il caso in cui si può utilizzare e bisogna utilizzare 0.4 è quel caso in cui abbiamo degli oggetti piccolini e ci sono scritte piccole e voglio che i particolari si leggano bene. Prendiamo per esempio questo spinner e vedete che lo stavo stampando con una parete da 0.4 perché le mie lettere a mio avviso escono meglio ed i particolari vengono sempre riempiti meglio perché se utilizziamo un valore più alto di 0.4 le due pareti nei punti più piccoli si sovrappongono e soprattutto in altri vengono lasciati dei microspazi. Io i microspazi che vengono lasciati voglio che siano riempiti al 100%. Uso la parete più fine che posso usare ma un riempimento bello tosto. In questo modo so che i particolari mi rifarà meglio. Se non mi interessa dei particolari tira pure su la parete però vedete in questo caso che la stampante farebbe dei brutti giri vedete quanti spostamenti che vengono evidenziati in blu e poi vedete come verrebbe steso il layer ci sarebbero molti buchi tutto questo perché ho impostato una parete troppo spessa per l'oggetto che stavo usando. Per capire qual è la parete ideale mettiamo che un cliente vi ha dato un oggetto da riprodurre e gli avete fatto un campione per capire quello che è il giusto compromesso fra durata, resistenza e peso fate due prove o tre una 0.4, una 0.8, una 1.2 e con la mano schiacciate per vedere se l'oggetto si rompe o rimane bello stabile meno materiale quindi noi abbiamo nell'oggetto e sicuramente più fragile sarà questi video su cura 15.4 consiglio di guardarli tutti e installare questo e cominciare a stampare con questo perché prima di tutto impari le basi ma soprattutto visto che non hai tanti parametri che ti confondono ho visto tantissimi perdersi su parametri che io non ho neanche mai impostato eppure le stampe escono molto bene e sia i clienti che io esteticamente siamo molto soddisfatti anche a livello strutturale serve sempre capire che fine fa l'oggetto se l'oggetto deve essere sbattuto agitato e buttato per terra sicuramente devo impiegare tanto materiale se invece l'oggetto deve essere messo su un mobile o sul tavolo meno materiale c'è e meno li costa e comunque l'utilizzo è uguale metti un bel like e condividi questo video a un metti un bel like e condividi questo video a qualcuno che ha appena comprato una stampante alla prossima musica 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 Grazie a tutti